Quello che vorrei brevemente dire prima di presentare i nostri ospiti sono poche parole, cioè le seguenti, che questa giornata secondo me presenta degli aspetti di, molti aspetti, di peculiarità e anche alcuni di straordinarietà. Quali sono questi aspetti? Il primo che mi è venuto in mente stamattina pensando a questa giornata di studi è il fatto che questa giornata è stata voluta, organizzata e poi alla fine realizzata da tre persone giovani e quindi non da degli accademici, non da dei professori, ma da tre laureati, dottori, facci i loro nomi, Tommaso Battistoni, Ariale Niccoli e Jacopo Visani. Quindi è una giornata che parte da tre persone giovani. La seconda cosa peculiare è il fatto che i due relatori di altissimo livello che oggi partecipano, cioè il professor Sloterdijk e il professor Maramao, hanno accettato l'invito di queste tre persone giovani. Quindi quando in modo così diretto hanno fatto la proposta, questi due grandi studiosi hanno accettato senza riserve e così liberamente. E questa è l'altra cosa che io ho giudicato peculiare. Terza cosa, anche questa peculiare, e poi ne avremo una dimostrazione nella seconda parte della giornata di questo pomeriggio, è che si tratta di una giornata filosofica con due studiosi di filosofia, però affiancata alla struttura e anche ai contenuti filosofici c'è una dimostrazione, una manifestazione di judo. Perché questo? Perché, come avete già capito dalla presentazione di Jacopo Visani, questa giornata è proprio intenzionalmente affiancata alla pratica del judo. E quindi è una parte integrante, diciamo, questo elemento è una parte integrante del contenuto filosofico specifico che verrà mostrato oggi. Quindi terzo elemento di peculiarità, direi quasi di straordinarietà, perché non capita solitamente un connubio, una vicinanza di questo tipo, un'intersezione di questo tipo. Passo a un quarto punto che mi è sembrato peculiare, anzi più che peculiare, cioè il fatto che i nostri due invitati in realtà condividono, secondo me, una struttura di pensiero comune, o forse meglio sarebbe dire un'intenzione, un'intenzione di pensiero comune. Qual è questa struttura o questa intenzione di pensiero? È, secondo me, quello che io definirei un pensiero a tutto tondo, oppure se vogliamo anche un pensiero di sorvolo in qualche modo, cioè l'idea che la filosofia debba comunque ricomporre, per così dire, mi viene questa parola, forse ne potrei scegliere una più adeguata, ricomporre una sorta di visione complessiva dell'uomo. Cioè il filosofo, secondo entrambi i nostri ospiti, deve avere una visione globale e deve al tempo stesso utilizzare, per quanto gli è possibile, chiaramente con serietà, deve utilizzare un po' tutti i registri che sono a disposizione del filosofo e non solo, dei pensatori in generale, quindi registri teorici, teoretici, ma anche registri di tipo etico, anche politici, anche scientifici, anzi in certi casi direi soprattutto scientifici, penso all'idea di Sloterdijk della costituzione immunitaria della natura umana, il fatto che bisogna oltrepassare il baratro, come lui dice, fra i fenomeni immunitari di origine biologica e quelli di origine culturale, ma poi c'è un altro registro molto importante, secondo me molto caro agli organizzatori, spero di non fraintendere le loro intenzioni, e cioè un registro di tipo educativo, cioè il fatto che una teoria e le teorie filosofiche, le ipotesi filosofiche debbano, in ultima analisi, avere una ricaduta educativa e formativa, è un'idea questa che è un po' decaduta che invece deve essere, secondo me, veramente senza nessun indugio ripresa e valorizzata. Bene, diciamo, così facendo, il filosofo che viene così tratteggiato, che viene così realizzato, è un filosofo che si trova in una strada alternativa rispetto al filosofo opinionista, il filosofo che va nei salotti televisivi oppure in quelli editoriali o quelli giornalistici, non importa, da un lato, e dall'altro il filosofo invece che ha per modello, diciamo, la scienza intesa come laboratorio, un filosofo che ragiona in modo molto ristretto, in una comunità molto limitata, con strumenti molto rigidi, molto parziali. Beh, qui si tratta invece, in entrambi i casi, direi, di valorizzare la figura di filosofo come come colui che ripensa all'uomo anche, ecco, e alla relazione dell'uomo con l'ambiente, per esempio, o la relazione dell'uomo con la mente, con la propria mente, così via. Bene, dirò ancora pochissimo, però volevo accennare qualcosa a una parola che è contenuta nel titolo di questa giornata, è contenuta nell'intervento di Giacomo Marramau, e cioè la parola, che secondo me è la parola chiave della giornata di oggi, cioè la parola trasformazione. Ecco, l'idea della trasformazione, secondo me, è davvero l'elemento cruciale, in questo senso, che si sta assistendo, proprio secondo me in questo periodo, almeno questa è la mia idea, a un cambiamento fortissimo, veramente imponente, a livello cognitivo. E che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che sta tramontando un'idea che ha avuto invece molta importanza in tutta la modernità e si è spinta poi fino alla contemporaneità, e c'è quella che si chiama in filosofia la centralità della nozione di rappresentazione. Cioè l'idea che la filosofia debba essere, e guardate, non solo la filosofia, questo è un discorso che va anche oltre, la filosofia, ma di cui la filosofia si fa portavoce privilegiata, che la filosofia debba essere una rappresentazione statica, in certa misura, di qualcosa, no? E' una concezione che è stata definita spettatoriale, proprio per questo motivo, perché è un'idea, c'è l'idea di uno spettatore che guarda fuori, che guarda altrove, e lo strumento per fare questo è appunto la nozione di rappresentazione. Bene, da questa idea nascono molte conseguenze, non posso qui elencarle, ma casomai le accenno brevemente, tutti i dualismi, per esempio il dualismo mente-corpo, oppure il dualismo individuo-ambiente, o ancora coscienza-cervello, o ancora umanesimo-scienza, cioè da questa semplice nozione, da questa chiave, nascono anche conseguenze molto forti per la filosofia, ma non solo, anche molto condizionanti. Bene, l'idea di oggi è che questa nozione così imponente di rappresentazione debba essere sostituita da un'altra nozione, che è quella di esercizio, e anche di ripetizione o allenamento, e da qui l'espressione di soggetti a trasformazione, soggetti a trasformazione. Dico solo questo, che l'idea dei soggetti a trasformazione ha un duplice significato, e entrambi sono importanti, il primo significato, la prima accezione di questa espressione, soggetti a trasformazione, è il fatto che i soggetti sono a trasformazione, nel senso che sono, come dire, esposti a forze, che imprimano su di noi qualcosa, e ci trasformano. Ma poi c'è un'altra accezione dell'espressione soggetti a trasformazione, e cioè che il soggetto può trasformare attivamente l'ambiente in cui si muove. E questo doppio gioco passivo e attivo è molto importante per il significato della parola trasformazione. La cosa importante è, secondo me, la componente passiva, anche, cioè il fatto che la trasformazione debba avvenire sempre con un attrito, per così dire, non avviene mai nel vuoto, ma deve avvenire sempre con una resistenza, con un attrito, e questo è anche il senso dell'esercizio, e anche, credo, il senso dell'esercizio di Judo. Permettetemi di dire un'ultima cosa, un'ultima peculiarità, anzi, straordinarietà, in questo caso, veramente straordinarietà, e cioè i titoli delle relazioni. I titoli delle relazioni contengono delle espressioni che, quando le ho viste per la prima volta, mi hanno fatto sorridere, devo dire, mi hanno dato proprio un senso quasi di gioia, e cioè la parola metamorfosi che è contenuta nella relazione di Giacomo Marramau unita alla parola potere, accanto alla parola potere, quindi non dominare, non subire, ma metamorfosi. E poi ancora, rinascimento permanente, rinascimento permanente e la novella italiana, sembra la buona novella italiana, e le buone notizie della modernità. Beh, devo dire, sono espressioni alle quali noi non siamo abituati da parecchio tempo, a me hanno dato un senso di conforto, mi hanno fatto molto piacere, e con questo la mia breve introduzione si conclude. però volevo prima presentare il primo nostro ospite, cioè il professore Peter Sloterdijk. Il suo profilo è molto elevato, sicuramente moltissimi di voi lo conoscono proprio per i suoi scritti, perché non solo ha scritto molto, ma molte cose, per fortuna, sono state tradotte in italiano. È uno dei maggiori filosofi tedeschi contemporanei, insegna filosofia estetica alla Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, di cui è attualmente rettore, e insegna anche all'Accademia di Belle Arti di Vienna. La sua, come dicevo nella mia breve presentazione, è una filosofia tutto tondo, una filosofia di tipo globale, se vogliamo. Vi cito solo brevemente alcune delle moltissime opere che ha scritto e che sono tradotte in italiano. Vi cito quelle. Critica della ragioncinica, Garzanti, Milano, questo è del 93, L'ultima sfera, Breve storia della logica della globalizzazione, Carocci, Ira e tempo, 2007, Derrida egizio, Raffaello Cortina, 2007, Devi cambiare la tua vita, è il libro che è stato anche prima citato, Raffaello Cortina, 2010, La mano che prende, la mano che dà, Raffaello Cortina, a Milano 2012. Detto questo, passo la parola immediatamente, ringraziandolo vivamente al professor Sloterdijk. Vi ringrazio. surface alla prossima, di l' difficoltare in linee sfera, corso il cliente, grazie. Grazie a tutti